Salve a tutti, scusate per l'inconveniente, oggi lo spiego nel video. Oggi Elabs aveva chiuso gli ascensori da cui si poteva salire, quindi per chi non è qua, abbiamo registrato l'intervento, si passava per via Giolitti, però logicamente c'è stato un piccolo problema di comunicazione, miglioreremo la cosa la prossima volta. Comunque, oggi presentiamo Microservices e Seneca. Chi sono? Sono Luca Lanziani, sono un ingegnere del software, lavoro a Nierform. Nierform è una compagnia irlandese che si occupa di fare consulenza su NoJS. Lavoriamo tutti quanti da remoto e lavoriamo per aziende di quasi tutte le dimensioni, dalle piccole start-up alle grandi enterprise. Mi potete trovare su Twitter con se volete discutere di Microservices, se volete informazioni su Seneca, NoJS in generale e JavaScript. Microservices, questa è la presa da Wikipedia, in sostanza quello che dice, è semplicemente un approccio architetturale alla costruzione del software. e i concetti chiave sono che ci devono essere tanti piccoli componenti che comunicano tra loro, quindi comunicazione tra processi, perché i componenti sono processi, con un tipo di interfaccia che è language agnostic, quindi che sia indipendente dal linguaggio. Leggendo questa descrizione, la prima cosa che viene in mente è, ma allora scusate, stiamo parlando di SOA, Service Oriented Architecture? Sì, perché in realtà i Microservices si possono considerare un sottinsieme di SOA, quello che è cambiato è che si sono messi dei limiti in più, quindi si è ristretto un po' l'insieme, così da essere un po' più specifici su quello che si vuole descrivere con Microservices. Infatti, si parla di Microservices, cioè il servizio, il componente che dobbiamo andare a scrivere deve essere molto piccolo, poi vediamo magari che cosa intendiamo per molto piccolo, non ci deve essere un bus centrale che, diciamo, gestisce tutta la comunicazione, quindi un bus intelligente, ma, al contrario, devono essere intelligenti i vari componenti che compongono la nostra applicazione, quindi i vari servizi. Quello che deve mettere in comunicazione questi servizi deve essere soltanto un canale che definiamo dump, che definiamo stupido, cioè che non deve fare altro semplicemente che trasmettere messaggi, che fornire un sistema di comunicazione. E un altro concetto che è stato aggiunto è che non bisogna utilizzare un unico database centrale, ma il consiglio è quello di utilizzare piccoli database per ogni servizio, quindi decentralizzare i dati, ok? Quindi, vediamo un'altra cosa, diciamo, cosa cambia rispetto all'approccio che abbiamo adesso, quello monolitico, che comunque molte persone hanno adesso il monolitico. Quando noi utilizziamo un'applicazione monolitica, per scalare lo facciamo in maniera lineare, quindi noi che facciamo, arrivano più utenti sulla nostra applicazione, e tiriamo su un altro server, rifacciamo il deploy dell'intera applicazione, ok? E in quel modo noi scaliamo. Ma, come ho detto, scaliamo linearmente. Se all'interno del nostro processo in realtà c'era un singolo componente, che magari è quello che fa l'encoding dei video, ok? Che è più pesante e ha bisogno di più risorse, noi in realtà andiamo a deployare l'intera applicazione di nuovo solo perché quel componente aveva bisogno di più risorse. Con l'approccio a microservices possiamo fare uno scaling granulare, quindi possiamo decidere di, diciamo, aumentare o scalare soltanto quel componente che effettivamente ha bisogno di più risorse. Questo ci porta a scalare in una maniera migliore e qualche volta ci porta anche a risparmiare denaro, soldi. Monolitico qualche volta è più semplice però. È più semplice perché logicamente abbiamo tutto quanto il codice lì, non dobbiamo gestire quei problemi classici dei microservices che sono ad esempio la comunicazione tra i microservices, la sincronizzazione, la consistenza, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte però abbiamo il partial deployment, quello che abbiamo visto prima, cioè possiamo in realtà poi, diciamo, sull'approccio a microservices, nel momento in cui cambiamo un piccolo componente, ok? Nel momento in cui cambiamo una riga di codice di un componente possiamo rideployare soltanto quel componente. In un approccio monolitico, se noi dobbiamo semplicemente mettere un punto e virgola in più, dobbiamo rifare il deploy di tutta l'applicazione. Nel monolitico però abbiamo più consistenza, nel senso che è facile trovare un errore in un software monolitico, spesso ci aiuta anche l'editor. Se noi cambiamo il nome di una funzione, possiamo fare il refactor in semplice e sappiamo esattamente dove quella funzione è usata all'interno di un'applicazione monolitica, cosa che non avviene con i microservices, perché logicamente sono distribuiti. Però, diciamo, il microservices ci dà un aiuto per quanto riguarda la availability, cioè la disponibilità del servizio. Perché? Perché se nell'applicazione monolitica un singolo componente dà errore, quello che succede è che tutto il processo va in errore. Poi ci sono modi sicuramente per gestire l'errore, però logicamente se c'è un crash, è un crash dell'intera applicazione. Mentre nell'approccio a microservices è possibile, con i dovuti accorgimenti, salvare l'intera applicazione dal crash di un singolo componente e continuare a, diciamo, ritornare dati che sono più o meno consistenti. Monolitico, come abbiamo detto, è più semplice per quanto riguarda il refactoring, ma il microservices vado un po' più veloce. Ci aiuta per quanto riguarda la separation of concern, cioè la separazione delle responsabilità. Perché? Perché dovendo effettivamente scrivere piccoli servizi, dobbiamo stare per, diciamo, per l'approccio che abbiamo scelto, dobbiamo stare più attenti, ok, a cosa facciamo fare ai singoli servizi. Essendo microservices, cioè servizi molto piccoli, dobbiamo andare a trovare esattamente la responsabilità che quel piccolo servizio deve avere. Code consistency, l'abbiamo detto, Multilanguage, microservices ci dà la possibilità di implementare ogni singolo componente volendo con un linguaggio differente. Se, ad esempio, non siamo contenti del fatto che Python, Node, Ruby, sono, diciamo, non gestiscono bene la concorrenza, chi per un modio, chi per un altro, Python, per il Global Interpreter Lock, no, JS, perché è single process di suo, possiamo decidere di implementare un piccolo componente, che è quello che magari fa il coding dei video, in C, C++, Java, quello che vogliamo. L'importante è che poi la comunicazione tra componenti avvenga in maniera semplice. Quindi, come vediamo, abbiamo vantaggi e svantaggi da ambo le parti. Questa slide sta lì proprio per farvi capire che non è che i microservices sono la panacea, cioè, adesso facciamo tutto con i microservices. Che cosa sono questi microservices? Come è descritto un'architettura a microservices? Ora, i microservices sono diventati famosi negli ultimi due o tre anni, in realtà è un pochino di più che se ne parla, però ancora non si è ben capito di che cosa si sta parlando, perché quando si parla di microservices ognuno ha la sua definizione, ognuno ha una sua dimensione per quanto riguarda il servizio, perché è magro, ma qualcuno lo definisce per il numero di codice, qualcuno lo definisce per il numero di persone che serve per mantenerlo, qualcun altro dice che deve essere possibile riscriverlo per una persona in X tempo, in X giorni. Ognuno ha una sua definizione. Quello che queste due persone che stanno facendo ricerche sui microservices ormai da un po' di tempo hanno definito sono una lista di caratteristiche che accomunano quasi tutti e tutti quelli che parlano di microservices. E anche qui vado un po' veloce, perché tanto poi se volete, se cercate microservices e quei nomi, trovate il loro blog con tutta la spiegazione di delle singole voci. Ok? Qui è soltanto per darvi un'infarinatura, almeno sapere di cosa stiamo parlando. La prima è composizione via servizi. Ok? Che cosa intendo per composizione via servizi? Il fatto che non sono componenti, cioè i microservices non sono componenti, non sono i moduli che adesso ne conosciamo, non sono le librerie che conosciamo, ma sono veri e propri servizi. Cioè hanno una funzione, hanno un perché di esistere, diciamo, di per sé. Organizzati intorno a capacità di business, che cosa vuol dire? Che il singolo componente deve risolvere un'esigenza del business di per sé, quindi esattamente come abbiamo detto prima, deve avere un motivo di esistere. lavorare sul prodotto o non progetto, questo l'abbiamo già detto, molti definiscono, molti caratterizzano i microservices da servizi smart e comunicazioni, sistemi di comunicazione abbastanza stupidi. Non ci deve essere un sistema centrale che gestisce i microservices, ma devono essere il più intelligenti possibile e indipendenti, quindi ognuno potrebbe funzionare senza gli altri. Bisogna decentralizzare la gestione di database, questo dà anche un altro bel vantaggio. Cioè nelle applicazioni che usiamo oggi, diciamo, abbiamo una base di dati, ormai si iniziano a utilizzare magari due o tre databases, però abbiamo una base di dati centralizzata, molti usano Postgres, e spesso addirittura la sincronizzazione dei servizi avviene grazie alla base di dati, quindi si scrive tutti su un database, si legge tutti da un database, ok? Questo non solo non è buono perché abbiamo un single point of failure, ma anche perché magari stiamo utilizzando un database nella maniera non appropriata. Magari abbiamo bisogno di un database relazionale e l'unico database che abbiamo a disposizione è un MongoDB, oppure il contrario, oppure abbiamo bisogno di un key value store che potrebbe essere Redis e lo facciamo con una singola tabella su Postgres, ok? Quello che si dice in microservices è usa il database che risolve meglio il problema di quel microservices e non mettere in comunicazione le varie basi dei dati, cioè la comunicazione avviene a livello applicativo. Naturalmente, anche questo è una caratteristica che molti citano quando si parla di microservices, perché? Perché quando cominciamo noi a, diciamo, dividere la nostra applicazione in tutti i piccoli servizi, una cosa di cui abbiamo necessariamente bisogno, se vogliamo passare a i microservices, è un po' di automazione per quanto riguarda l'infrastruttura. Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo bisogno di un sistema per fare il deploy smart, cioè dobbiamo gestire un sistema dove magari un servizio va giù, abbiamo bisogno di un sistema di monitoring perché dobbiamo servire quando quel servizio va giù, abbiamo bisogno di un sistema di, mi sembra si chiama blue-green deploy, cioè una cosa di deploy continuo, quindi non bisogna mai mandare giù un servizio altrimenti l'altro, perché dicendolo in soldoni, quando abbiamo un monolite noi spengiamo tutto, riaccendiamo tutto e tutto funziona, ma nel momento in cui abbiamo tanti servizi che parlano tra loro, se un servizio va giù e l'altro prova a parlare, abbiamo un problema, quindi dobbiamo essere sicuri che i servizi trovino sempre gli altri per cui parlare o che falliscono in maniera intelligente. E infatti l'ultima è design for failure, perché potrà sempre succedere che un servizio non c'è e quindi gli altri servizi dovranno essere pronti a gestire quel caso. Che succede nel momento in cui io non posso, facciamo un esempio stupido, ho un sito come Amazon, ok? Ho il prodotto, la descrizione del prodotto, ho le foto, ho i commenti degli utenti. Che succede nel momento in cui il servizio dei commenti non c'è? Va d'errore? No, semplicemente non visualizzo quella parte della pagina e così via, ok? Quindi so che nel momento in cui non mi ritorna quella parola avrò un time out e al time out dirò va bene, non ci sono i commenti, pace, amen, non è un problema. Evolutionary design, questo ve lo potete leggere bene sul blog, perché è un po' complesso da spiegare in poche parole. Quindi, cambiamo tutti a microservices? Sì! No, no perché non ci sono tutti questi vantaggi, anzi, se io dovessi cambiare a microservices sarebbe per me un macello, dovrei ricreare la mia infrastruttura, dovrei mettere sul sistema di deploy, dovrei mettere sul sistema di monitory, non si può fare. In buona sostanza la risposta è dipende, dipende da cosa state sviluppando, quando avete iniziato a svilupparlo, che tipo di esigenza avete, dovete scalare, se dovete scalare in maniera efficace, magari vale la pena ridisegnarlo in microservices, è un'applicazione talmente semplice che non trovate nemmeno come, cioè, dovete proprio impegnarvi per trovare come dividerla in microservizi, allora lasciatela monolitica, non è un problema, hanno sempre funzionato le applicazioni monolitiche. In microservices hanno un senso, ma hanno un senso in delle applicazioni particolari, cioè, quando c'è un motivo di usarli, non sono la panacea per tutti i mali, non sono la soluzione per tutti i mali. Noi, noi di Nearform, siccome siamo convinti che però i microservices possano risolvere delle esigenze di qualche nostro cliente, abbiamo deciso di scommetterci. Abbiamo deciso di scommetterci, abbiamo sviluppato internamente questo framework, questo toolkit, non è altro che un insieme di librerie. Si chiama SenecaJS, il sito è senecajs.org e è in JavaScript, è basato su Node.js. Perché su Node.js? Perché abbiamo visto che effettivamente Node.js funziona molto bene per sviluppare applicazioni di rete e che permettano, dico, e la comunicazione tramite i servizi viene fatta tramite rete in un modo o nell'altro. Ok? Quindi abbiamo, è semplice scrivere applicazioni con Node.js, sono applicazioni che sono monoprocesso, quindi di natura è un microservices. Tendiamo a lasciare le cose più piccole possibile proprio perché siano un microservices. Salutiamo Augusto, c'è il video Augusto. Ciao. Come funziona Seneca? Seneca, essendo Node.js appunto, si installa semplicemente come un modulo Node.js da NPM, NPM install Seneca, meno o meno save se lo vuole salvare nel vostro package.json oppure meno g se volete installarlo a livello globale, ha più senso installarlo a livello di modulo. E dopodiché scriviamo una semplice applicazione e dopo andiamo proprio a scrivere codice sul terminale. Come funziona Seneca? Seneca si basa sul concetto di plugin, ok? Qui non si vede, però sostanzialmente l'idea è che voi dovete implementare plugin in continuazione, ogni piccola cosa, ogni servizio ha un plugin, ok? Dopodiché Seneca vi mette a disposizione una serie di metodi, di API, ok? Che permettono di mettere in comunicazione i vostri vari pezzetti di software come le due API più semplici che probabilmente userete il 90% delle volte sono ADD e ACT e funziona così. Voi fate require di Seneca, istanziate Seneca con le due parentesi che vedete dopo, require, e dopodiché Seneca vi mette a disposizione ADD, ok? ADD accetta un JSON e una funzione. Il JSON contiene le chiavi su cui andiamo a fare pattern matching quando vogliamo richiamare quella funzione, ok? La funzione accetta un messaggio e una callback. Il messaggio non è altro che il JSON che poi verrà in parte matchato al primo JSON che vediamo. E la callback non è altro che la chiamata da usare per ritornare il risultato a chi ci sta chiamando. Ci sta chiamando come? Con ACT, ok? Quindi ADD è come se fosse publish, ok? Io pubblico il fatto che posso accettare i messaggi con il ruolo MAT e con il comando SAM e qualcun altro quando Seneca userà ACT dirà Seneca ACT sul ruolo MAT comando SAM ok? Dove LE1 e R2 e l'ultima che è una funzione non farà altro che stampare il risultato. In questo caso utilizzando questa cosa qua quel console log stamperà NULL e Answer SAM. Chiaro? Chiaro? Non è chiaro? Dubbi? È abbastanza semplice come esempio. È il modello degli attori fondamentali. Sì, esatto. È esattamente il modello degli attori. Quindi questo lo vediamo dopo. Scriviamo un po' di codice cioè vediamo effettivamente se Seneca funziona e come funziona. Io direi che adesso il microfono lo stacchiamo. Ciao!